Bentornati qua su Fablinker Music per una nuova reaction. Torniamo qui da Igrita Van Fleet, una band che quando l'ho ascoltata mi è piaciuta veramente tanto. E un ragazzo mi ha consigliato diverse canzoni su cui poter fare una reaction e tra queste ho selezionato come prima It Above, che tra l'altro c'è l'official video. Quindi oggi andremo a vedere sia il video e andremo a ascoltare anche la canzone. Quindi Igrita Van Fleet con It Above. Andiamo subito ad ascoltare. Grazie a tutti. 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 bella ma soprattutto per una una cosa la strumentale no questa canzone strumentalmente come suoni come tutto è stupenda c'è alcune parti veramente fantastica secondo me tra l'altro la voce del cantante ma quanto cavolo ma quanto cavolo e acuta è veramente acutissima cioè riesce a fare delle cose veramente wow incredibili veramente incredibili questa canzone mi è davvero piaciuta ringrazio il ragazzo che mi ha consigliato di ascoltarla lo ringrazio tantissimo devo dire che questi ragazzi ci sanno fare tra l'altro mi ha detto questo ragazzo che praticamente questa band è una sorta di famiglia perché sono ben capito c'è il fratello c'è quell'altro insomma diciamo che è un po una una musica fatta in famiglia ed è fantastica questa cosa spero di non aver capito male ma comunque a parte tutto la canzone mi è piaciuta strumentalmente meravigliosa cioè la strumentale è qualcosa di assurdo voce acutissima e bellissima e adatta a questo tipo di canzone veramente adatta se avete altri consigli fatemi sapere che siano quei grita fan fleet che sia un'altra band che sia un altro artista insomma bizzarritevi vi ringrazio molto per la presenza e ci becchiamo alla prossima reaction ciao ragazzi